50 chili di cane imprigionati in una gabbia di un metro e mezzo per due legato per il collo all'inferriata arrugginita del cancello. Questa la scena descritta delle guardie ecozeofile dell'OIPA di Prato che sono intervenute a Poggio a Caiano per liberare un pastore del Caucaso di circa 5 anni recluso da almeno un anno e mezzo in una vera e propria prigione nascosta dall'erba alta piena di escrementi. Le immagini diffuse dalla stessa associazione documentano questa nuova storia di violenza verso i nostri amici a Quattrozampe. E' stato proprio King, così è stato ribattezzato dalle sue salvatrici, a chiedere aiuto abbaiando a una signora che passava nelle vicinanze a passeggio con il suo cane. La donna rendendosi conto della situazione ha scattato delle foto e ha fatto una segnalazione alle guardie dell'OIPA che sono intervenute subito. La gabbia era vicina a un capannone di un cinese che non ha saputo dare alcuna informazione sul cane che a suo dire sarebbe già stato lì quando ha acquistato l'immobile. Del nutrito e impaurito, King non ha fatto avvicinare nessuno. Per portarlo via è stato addormentato da un veterinario privato per indisponibilità di quello dell'ASL. Una volta il canile ha ritrovato la serenità. Il lieto fine è oscurato dalla patologia che ha colpito King agli occhi. Il cosiddetto rovesciamento della palpebra dovrà sottoporsi a un'operazione chirurgica. Non appena avrà recuperato le forze e la fiducia nelle persone.